Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi continua la saga di Overcooked 2, la co-op con la special guest Pookie Pookie. Buona visione. Cos'è quel 62 stellina? Non capiscio. È un po' di stellina, tutto chiaro. Ok, 520 è il nostro targetto. Allora, sei pronta? Vai. Allora, pasta carne, pasta... Io non c'ho niente, io c'ho sui taglieri, c'ho sui taglieri. Ma ho già capito cosa dobbiamo fare qua. Oddio, oh no, oh no. Ho già capito, tipo così. No, non lo so. Sto cercando di capire, toh. Aspetta. Uno. Non ne vai, te lo prendo. Ok, e mo? Così? No. Sì, ok. Non so se te li riesco a lanciare. Cos'è ci fai qua? Cosa vuoi? Ti ho permesso? Oh, volevo aiutare. Aspetta, dobbiamo salire qua. No, deve aspettare che sia vicino. Allora, pasta con la carne. Ce l'ho qua permesso. Ma che è pasta con la carne? Sì, l'ho consegnata, è la giusta, 65. Pasta con la bistecca, ma come hai ragione? Ma che ne so io. Allora. Scusa, se vi metto qua te li posso... Sì, te li posso lanciare. Sì, però ti sei lanciato tu. No, no, si può, si può. Si può fare. Il problema è la pasta. Ma la pentola è di là. Ecco. Non so cosa è successo, ma ha fatto una cosa strana. Ha fatto wewewe. Vedi? Eh? What? Io ci vado, che me frega. Ma sì, sì, puoi camminare. Cosa? Non lo so, mi sento drogato. Ma tipo, ne approfittiamo come dei maiali sta cosa. Si autosposta tu. Non lo so cosa sta succedendo. Dov'è i piatti? Ma questa cosa è puzzantissima. Ma tipo... Ma tipo che non si può poggiare nemmeno la carne. Ah. Ma... Cosa... Devo tagliare la carne. Mi sento drogato. Ah. La corro dietro la carne. Per i fattori sta cosa. Questo devo cuocere. Per verità. Io lavo i piatti. Lo sto capendo. Ah. Mi sento drogato. Lo sto capendo. Oh, grazie. Ho lavato un piatto. Basta così ci sarà, vero? Sì. Ma che ne so. Può, forse. Questa è pronta. Non questa, questa. Oh mio Dio. Sta lievitando. Sta lievitando. Ho fatto pusti, funghi, pasta, carne. Di tutto c'è. Ma anche mentre... Ha pentola a pressione. No, il tagliere mi scappa. Anche queste parli si è un po' drogati. Sto la mia impressione, però non so che cazzo sta succedendo, ma vabbè. C'ho un piatto, c'ho un piatto. Siamo al 68. Ma... Aiuto. Devo fare i funghi. Ma to, ma to... Nani. Nani corre. Cosa, 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 cosa? Non lo so. Siamo tornati normali. Cioè, basta drogarti, però. Aiuto, mi giro tutto. Vero? Questa cosa. Allora. Io ho fatto una pasta col pomodoro. Cos'è questa cosa della vasca? Adesso ti mando la cosa. Ti f***o, Giulietta e Rometto. Vieni, Giulietta e Rometto. Ne avessi preso uno. Giulietta e Rometto. Che cosa vuol dire? Ma fai tutte le pentole che sono qua, io non lo so. Non lo so, ma non so che sto dicendo le cose che sto succedendo. Quindi io vado qua. E poi vediamo. C'ho sette pentole, otto patate. Tutto qua. È bello che non posso fare niente. Lancia, lancia le cose. Puoi scendere da qua comunque. Non vuole fare. Devi scendere con i piatti però. Sto piangendo. Per me quello non è un posto dove sto facendo. Qua c'è il piatto. Qui è il piatto. Ma caccio. Cosa sto vedendo la vita? Sto piangendo la vita. Ai ai ai. Ma... Ai ai ai. Però la pasta cuociamola però. Sì, ma perché? Ma buttali. Dove li butti? No! Non puoi, non puoi di qua buttarli. Ah, così. Mizzani, devi prendere un golino. Ma che è? Ma che ne so io? Io ho fatto una pasta con funghi e pomodoro che non credo ci sia mai. No! Ma che va soltanto pasta, funghi e peggio? E c'ho qua, mi lanci un ingrediente, mi lanci qualcosa. Mi lanci qualcosa, non la pasta, ma il ingrediente, tipo... Non lo so. Un pomodoro, una vista, qualsiasi cosa. Basta che sia un ingrediente. Io ti sto lanciando la vita. Ok. Wow. Aiuto. Questa è stata un'esperienza. Esatto. No, però l'avevamo fatto a 2,40. Wow. Che prego. Ma questa era da fare proprio. Madonna mia, pensa quando sei ubriaco, questa non capisci niente. Questa è proprio da fare quando sei al limite. Allora. Capisci un cacchio. Esatto. Allora. Io ti lancio... Ho capito che si può lanciare la carne. Quindi la carne te la posso lanciare. Eh, e la pasta. No, la pasta è la tinta. Sì. E poi un fungo. Ma c'è visto la carne e il fungo, sì. Buona. Aiuto. Non ce la posso fare. Un altro fungo. Sì, mira. Chi è inventato questo giocco? Ok. Ok. Una pasta. Via. Forse è il 2. Forse ce la facciamo, eh. Via. Passo qua. Sbrigati per... Sbrigati, domano. Via. Basta. Nooo. Slavana. Va bene, va bene, recuperabili. C'è una pasta ancora lì, va. Poi ti serve? Un carno. Vai tranquillo, vai tranquillo. Adesso poi ce lo scrego. Ma porca! Ti ho visto cadere. Sì, coltati in mano, dannazione. Vabbè, c'è un pasta e funghi pronto, se vuoi. No, la mani. Questi affari sono... Ecco. Ci siamo. Here we go. La vorticianza. Ok, stiamo calmi. Carne. Qua possiamo fare quello che vogliamo. Sì, lo so, è un po' brutto questo qua. Poi, pomodoro. Ok. Ti serve una pasta? Ce l'abbiamo la pasta, eccola qua. Via. Consegnando. Aspetta che cammino di qua. Via. Vai, vai. Guano. A bomba. Doso. Via. Sono cric. Pastone. Piatone. Pastone è già prontone. Lavo i piattoni. Ciao, buone. Esatto. Non guardare lo schermo, tu. Dai. Dici, come faccio a lavorare se non guardo lo schermo? Non so. Intanto ho visto capi niente. Non guardare il vortice. Ok, qua c'è un'altra pasta con la carne che è pronta. Via. Mi sento male. Via. E' pomodoro, credo. Pomodoro sto tagliando. Questa pasta com'è? Crudo o cotta? E' cruda. E allora non ci serve. Possa. Pomodoro. Poi cosa ci serve? Un fungo. Una pasta lo prendo. Togli il pentolone. Io lavo il piattone. Bravo, bene. Ma dove sono già? Ah, ecco. Uno è già pronto. Due. Madonna mia che mani di testa. Sta venendo da vomitare. Ok, allora. Ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Siamo a cavallo. Siamo a cavallo donato. Non si guarda in bocca. Non si guarda in bocca. Esatto. Vai, pasta e funghi ce l'ho. Arriva, arriva, arriva che sta scadendo. Permesso per i meson. Poi ci serve un pomodoro e carne. Pomodoro, carne. Poi ci serve pasta. Pasta. Poi ci vuole anche un piattone. Ci sono. Pianti ci sono. Ok. Da sopra ci abbiamo una pasta cotta. Però questa pasta qua la devi cuocere. Che questa lì non si cuoce. Ok, il pomodoro me lo prendo io. Te lo prendi tu. La pasta è già pronta lì. Lì, 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 lì. Sopra, sopra. Dall'altra parte, dall'altra parte. Slamana, slamana! Ok. Vai, 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 vai. Adesso dove devo lanciarti? Un fungo, un gamberetto e un pesce. Ok. Ok. Arrivo. Questo è pronto. Via, 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 via. È un pomodoro. Prendi piatti. Pesce. Un oro. Un oro. Pasta. Mi serve questo pomodoro. Mi basta non cotta. Mi serve questo pomodoro. Non consigliare solo la pasta. Ma porca. Cioè, ti ho visto, eh? Sì. Mi hai guardato il tempo. Via, 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 via. Non mi hai mai guardato. Consegna questo fungo. Eh, volevo. Sì, 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 lo puoi. Ce la fai, ce la fai. No, non c'è. 142, yeah. Marò. Che vomito. Madonna mia. Oh, no c'è. No, non c'è. Grazie a tutti